ragazzi questo qua sono cinque dei personaggi del mondo di sonic spero che vi piacciono c'è sonic knuckles tails silver e il mio preferito shadow allora secondo me mi sono usciti bene abbastanza a tutti spero che a voi vi piacciono lasciate like iscrizione e campanina e ci vediamo al prossimo short o video ciao